buonasera a tutti allora io credo che ormai sia arrivata veramente una situazione siamo arrivati a una situazione di non ritorno per quanto riguarda il web che era fino a un decennio fa un bel posto dove potersi divertire dove potersi confrontare dove poter fare inventare delle belle cose come lo sfottocalcistico che ormai purtroppo è finito perché è finita la qualità parliamoci chiaro è finita la qualità su youtube ragazzi ormai dici ma anche tu tu cerchi soldi ma la sapere da me io sono un che ha fatto la storia su youtube portando un'innovazione portando del nuovo portando cose che nessuno mai ha fatto vediamoci chiaro questa gentaglia qua che adesso non voglio neanche nominare perché voi sapete che io non ho bisogno di farmi pubblicità ma ormai è diventato siccome è diventato un porcile a tutti gli effetti sta gentaccia qua che si mette con i poster della juventus dietro con un mezzo microfono e si permette di dire il cazzo che vuole sparare a merda a zero sull'inter noi veramente ma anche qualunque qualunque squadra diversa dall'inter penso che qualunque tifoso ne abbia le palle piene di sta gentaglia qua addirittura ci sono giornalisti radiatiche ormai fanno dell'unico loro cavallo di battaglia sparare cazzate su una società che non li vede proprio praticamente perché con tutte loro grandissime battaglie che loro dicono di poter fare nei tribunali non hanno cavato un ragno dal buco sì l'inter sarà pignorata sarà fallita ma l'inter continua a stare in serie a continua a vincere in confronto al loro scuole di merda che spendono e spandono a destra e sinistra ma non vengono mai un cazzo e adesso si è formata dovete sapere che quando sul web non si riesce mai ad emergere bisogna inventarsi qualcosa io per esempio non mi sono mai inventato nulla mi sono inventato cose che non farà mai nessun altro tipo i video sul sociale l'elimination dance non ho mai avuto bisogno di dissare qualcuno o di fare una catena di concatenare una catena di falliti che si lecca nel culo a vicenda tipo peter pani il bandito bianco nero la musica il bandito rosso nero marietto tribuna rosso nero ma vessecchi che si mette questa gente qua proprio un grande giornalista ha detto di tu che si va a mettere con questa gente qua cioè ormai il il dato è tratto questa gente che ha inventato questa battaglia con una società parliamoci chiaro io sono interista ma me ne frega poco a me delle stronzate che dicono loro e che facendo come si chiama come come fanno tutti i vigliacchi praticamente non riescono a portare davanti le battaglie in maniera solitaria ma incominciano addirittura a nominarsi nelle live per tentare di fare quanti più tentare quanta più merda possibile da da riuscire a diciamo da ad aumentare di visibilità perché altrimenti non li cagherebbe nessuno questa gente che di talento non ha niente a zero ha solo un microfono un poster messo dire come quel coglione che si mette il poste della you and quell'altro coglione poi sono tutti uguali microfono da 800 mila euro la vanava del ma in realtà in quei video c'è tanta monnezza ma veramente monnezza 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 del monnezza rilevante ormai questa gente il giochetto giochetto che ormai è chiaro noi ci sponsorizziamo sparando merda sull'inter a destra e sinistra e la gente parla di noi che la dinterista si ingazzano su giochetti ha chi capito quella gente che a cui se voi andate a vedere della juve del mila non se ne frega assolutamente niente ma pensa ai cazzi propri propri interessi perché da sola quella gente non sarebbe mai emersa prendete tipo marietto marietto tribune rossoni io pensavo che io le persone guarda io veramente difficilmente sbaglio la persona una sera mi contattò mi disse vieni a fare una live da me vengo perché volevo diciamo mi sembrava una persona non dica affidabile mi sembrava una persona con cui poter però non ho se mi ha dato sempre l'impressione di falso una persona molto diciamo sulle sue alla fine quei video che fa se vi vedete bene non sono sfottò sull'inter sono si vede l'odio la cattiveria che hanno dentro mentre io quando ho fatto le famose elimination dance della juventus per l'amor di dio goduto quando il mirano perde io però si vede che c'è una vena artistica mentre nel loro nel loro sfottò c'è una zio lì si vede già la faccia odiosa e rabbiosa e il bruciamento di culo per le vittorie sonanti dell'inter che di bastona praticamente da due tre quattro anni a questa volta allora come possiamo fare per per bloccare questa questa valanga nero azzurro ci mettiamo insieme tra sette otto falliti facciamo costituiamo un'associazione infatti loro hanno costituito sotto per sotto un'associazione tranne con i vari balzarini quelle che gente che sta al di fuori perché quelli non fanno non è quello che comunale perché non hanno bisogno di prendere notorietà in quanto sono già famosi di proprio barzaghi questa gente insomma questi falliti si riuniscono e diventano iniziano diciamo a prendere piede hanno capito come fare far parlare di sé ma non avendo nessun talento cioè non è che hanno portato sul tubo portano riportano delle notizie del cazzo taroccate che leggono sui giornali da quattro soldi la spazzatura che leggono la gazzetta io quella quelle schifezze di giornale non le leggo più da anni ormai figuriamoci se prima si vendevano pure andava la gazzetta ne mezzogiorno non compro più nessun giornale che le cazzate che sparano e continuano queste battaglie di presunti illeciti pignora me l'inter deve fallire la ma quanto per quanti anni tenterete cioè penserete di andare avanti con questa faccia ma lo vedete che non riuscite a cavare un cazzo cioè un ragno dal bu non ce la fate non c'è niente di quello che dite solo che vi accaparate gente più handicappata di voi perché quello è giustamente basta vedervi in faccia io non è che vi voglio offendere basta vedervi in faccia chiaro che con le vostre facce prendete tutta la monnezza che è stata il web odiatori interessi che credono alle vostre fandonie e vedo sotto i complimenti a questa gente quella peter pan bianconese se ti è merito deficiente basta che vi vede un bacio per rispondere al romagnolo nera azzurro ci avrà messo un anno io però io ecco adesso la querela la di noi ma che cazzo vuoi querela ma che vuoi querela vatti ne sparisci querela 76 mesi sopra il web devi prendere i parolacci per tutti i cazzati che dici sono martedì chiudi un canale e sparisci due quere la io sono qua quattordici anni questa che sopra usi qua andate parolacci insulti minaccia quanti guardi facevi i gol ma questa giuntaglia qua usi perché sono io sapete battaglie reali io addirittura andavo contro la mia squadra quella significa avevi i palli non lo faccio di comunale voi mettete tutta la squadra vostra scolato scemo la bandita rossone fesqui la vedete lì in faccia ma che gente quella gente come fa a dare qualcosa di positivo al web quella gente che crea odio astio palle stronzate palle per le casalinghe di voghera emilio fesco gente che non serve a niente gente che non ha mai se non è mai servita niente che non servirà a me a niente andrà avanti sempre su queste cose farlocche su queste cazzate su queste puttanate praticamente del fandoni che si si sono creati adesso questi quattro canaletti da 16.000 iscritti a te vedete che non riescono mai ad emergere sono dei canaletti da quattro soldi perché perché non hanno talento hanno solo stronzate puttanate tutti quelli che scrivono sono quei malati mentali peggio di loro che vedono il milan con il paraocchio che vedono la che odiano l'inter sistematicamente con i paraocchi loro hanno il pubblico che gli compete che gli appartiene io però sono veramente stanco di vedere questa gentaglia che usufruisce di un mezzo così bello per non portare nulla praticamente nulla al mondo diciamo al mondo del web perché queste gente che non non so passano i mesi gli anni incominciano addirittura a farsi ormai a parlarsi tra di loro per cercare di scambiarsi gli iscritti perché non è che non è che sono nato adesso questo fatto lo faceva già mario inder ai tempi di cardi quindi voi siete arrivati dopo mario inder creò quel dissing con me perché non volevi i cardi e fece 40.000 iscritti ma è chiaro che il dissing loro dicono che non lo fanno il diss ma in realtà lo fanno e se lo fanno e si fanno comunella tra di loro ma in realtà lo fanno è una cosa molto contorta ma siccome sono una persona molto intelligente io questa gente l'ho capita su quella gente ragazzi prendetela così prendeteli come dei clown sono dei pagliacci che devono cercare di portare due trecento euro al mese a casa ma in realtà di contenuti zero non c'è mai un commento tattico sempre tifosi faziosi altezzosi non c'è mai un bravo a un'altra squadra sempre pignoramento stinder che fallisce quella roba marotta la c'ha vita fatto di pal quanto neanche siete diventati insopportati odia la stessa ma perché la gente vi odia perché siete dei parassi perché siete ripetitivi perché siete noi o non portate niente di nuovo e la gente vi continuerà a togliare io vi dico solamente una cosa questa gente comunque vada prima o poi sparirà dal web di spontanea volontà vedrete prima o poi si stancherà perché questa cosa non può se non hai talento sparisci da solo e per quello che ho visto voi non avete talento lo dimostrano i vostri numeri se non siete arrivati neanche a 20 mila iscritti vuol dire che siete proprio scarsi siete scarsi qualcuno c'è a 19 mila quando veramente era difficile la ruota a 120 ora sarei arrivati a 150 mila iscritti ma perché ho portato innovazione perché ho portato lo sfottò a lega l'ho portato qui siete sempre l'uco pingol quello parla di quello quello parla dell'interno quello parla di di che hanno fatto la squadra che hanno fatto la comunale quello facevo video a favore di quello quello le cucula ora mi qui quattro si sono coalizzati per tentare di diventare famosi però io vi dico sinceramente dall'alto della mia esperienza provate a crearvi qualcosa di vostro se ormai siete veramente di una noia morta prima o poi la gente vi abbandonerà rimarrete con quei quattro falliti che vi seguono prima o poi la gente si stanca e vi abbandono ve lo dico io di perciò vedete io ho aperto il canale sto di nuovo a 24 mila iscritti senza fare parlare di pignoramenti del mila a me non me ne frega un cazzo io parlo di calcio giocato sono stato nel campo per quelli poi tra l'altro il campo non sanno neanche che cos'è tifosi da quattro soldi con una vetrata dietro che sembra che vadano allo stadio ma in realtà neanche lo stadio hanno visto quindi secondo me non è un buon viatico per diventare famosi su web poi se volete continuare siete liberi di farlo per me sentite a me che sono molto più esperto di voi sono dal 2013 qua so inventatevi qualcosa di vostro perché siete penosi io i vostri video non li guardo provo da guardare uno di mezzo di peter pass l'ho messo a tre il video perché era di una noia mortale non dava proprio niente sempre stesse puttana sempre sti querele ma che cazzo volete querela sopra youtube con la giustizia italiana tu dici la parola qui tu dici la parola qui tu dici tu sfutti l'intero quello risponde quello l'intero non c'è un chiuso il canale avesso mi chiedi i creatori di tre anni i creatori di tre anni sono più un maturato uso inventatevi qualcosa di vostro fate qualcosa che possa farvi emergere ma in realtà purtroppo voi non ce la fate questa è la dimostrazione che per emergere dovete fare la comunella a 4 a 5 dovete parlare di uno con l'altro vedete avete fatto la catena di sant'antoma in realtà uno per uno non valete un cazzo stavo parlando di quella marietto mi è sembrato una persona falsa invece e infatti è vero era così non me ne voglio ma ho sempre pensato anche quando guardavi sui video che c'era una cattiveria interna quando non erano sfottosi vede dal viso dallo sguardo degli occhi sappiate che io ho fatto anche l'arbitro quindi già vedevo dalla faccia chi mi voleva fregare nello spogliatore quindi basta che li guardo mezza volta anche a distanza già ho capito con chi ho che fa quell'altro è un altro mezzo esaurito quell'altro un'altra faccia da non devo neanche parlare quei quattro là che voi sapete non ho parole per quella gente proprio veramente immensamente pietà spero che possiate cambiare ma purtroppo ormai avete capito che l'unico viatico per fare un po per avere un po di visualizzazione è quella parlare dell'inter unirvi quando io vi fare queste presunte carnevalate per cercare di tentare di mettere delle firme la mia realtà poi in tribunale non ci andrete mai continuate a sparare puttanate la gente vi crederà anche l'inter non valerà mai avete fatto state perdendo tempo anni e anni di stronzate non avete mai cavato un ragno dal buco per me siete la nullità in persona tra l'altro nei vostri canali non si parla altro di queste stronzate non fate altro nella vita mentre io suono canto faccio vogliamo mettere io con voi voi state sempre in quella cazzo distanza non avete mai fatto un cazzo oltre che dimostrarci che raccontate puttanate alla gente quindi parlano i video per voi siete scarsi scarsi e fate veramente pena mi dispiace dirvelo ma siete veramente il peggio del web che abbia potuto costruire che vi siete costruiti ma come esiste padre tempo dirà la verità e padre tempo io sono convinto che vi farà scomparire nell'obbligo lo sapete voi che ne pensate un abbraccio da la provincia di campo basso sempre forse